per questa eccessiva presentazione nessuno mi ha detto che è stato colpito adesso speriamo di avere il collegamento che ho fatto sbagliare per dire in contatto voi preferite giustamente Leonardo però adesso vediamo che riusciamo a liberare dunque io quello che volevo dire visto come sono stato introdotto è che bisogna e visto che considero insomma che l'ordine si è ingrattata l'ultimo c'è questo domande se ne vuole se ne vuole non vuoi che lo scudiamo no vabbè no così si deve dunque dopo tutto questo elenco di cose sono capitate anche un po' per caso nella mia vita e io voglio incidere tutti gli studenti a pensare che comunque noi abbiamo delle grandi responsabilità perché tutto questo grande territorio che studiamo ha ancora bisogno tantissimo della presenza degli archeologi sia per salvare il salvabile del patrimonio sia per studiarlo come si deve quindi diciamo che rispetto alla generazione dei miei maestri o anche prima quando la letteratura era poca e le cose da scoprire non tante adesso c'è una montagna di letteratura in crescita però le cose da scoprire da proteggere sono ancora tante quindi diciamo che ci è richiesto uno sforzo maggiore una responsabilità maggiore infine poi mi vado a dire le cose che sono da dire rispetto a questa cosa che tu dici del nostro impostazione non colonialista è un concetto fondamentale una responsabilità tipica dell'Italia perché noi abbiamo questa prerogativa fortunata che non avendo praticamente quasi avuto i coloni e comunque avendo superato tutta quella fase vivendo la teologia orientale una fase post seconda quella mondiale ci presentiamo con un approccio completamente diverso siamo capaci di tutte le nostre università hanno costruito dei rapporti molto belli con i paesi ospiti e di questo noi dobbiamo essere consapevoli dobbiamo cercare sempre di mantenere questo tipo di relazioni sono fondamentali per una ricerca che sia insomma libera da tanti problemi che altrimenti nei quali si viene avvolti dunque qui voi sapete ci troviamo adesso vedremo ci troviamo in questa parte del mondo vista un po' più dalla prospettiva egiziana perché ho scelto questa prospettiva per far capire che in un contesto come l'Egitto che magari è lungo 1500 km la distanza tra il delta e Gerico non è tanto superiore a quella che ci può essere tra il delta stesso e l'Egitto regionale quindi dal punto di vista geografico sebbene ci sia certo la penisola del Sinai è un deserto in mezzo e sicuramente una geografia mentale separata però quest'area non era del tutto lontana come noi la vediamo nei libri dove studiamo con un'impostazione ottocentesca le culture come se fossero popoli e ciascuna ha un nome un'area e un'epoca e a tuttora comunque noi abbiamo questa impostazione quindi qui vedete le oasi perché uno dei segreti della straordinaria relazione che questa città stabilì con la grande civiltà egizia fu proprio quello di essere un oasi cioè di sorgere in un oasi io immagino poi magari diciamo non ho delle fonti scritte a comportamento io immagino che diciamo un egiziano che entrasse nella Palestina meridionale nel momento in cui arrivava a Geo per la prima volta vedeva un paesaggio che gli poteva essere un po' familiare dopo aver attraversato cose un po' abbastanza diverse quindi qui vedete appunto la localizzazione dei centri principali che conoscete e diversi ambienti per esempio delle oasi iniziale e poi vediamo il contesto in generico delle sultane ecco perché il nome biblico è un contesto ambientale estremamente particolare perché prima di tutto ci troviamo una delle più grandi depressioni di tutta la corsa terrestre si arriva fino a 300 metri sotto il livello del mare ma soprattutto quella che vedete cioè la valle del Giordano è la prosecuzione di una faglia che arriva fino al corno d'Africa che non è un luogo qualunque perché è l'autostrada attraverso la quale l'homo sapiens dall'Africa è entrato dentro l'Asia quindi questo stesso luogo qualche centinaia di migliaia di anni prima era un grande lago molto più grande di quanto si è oggi il mal morto e sulle sponde di questo lago i uomini si erano già insediati quindi è una via naturale diciamo inseguendo le gazzelle che ancora oggi sono lì non è un caso quindi che questa relazione con il mondo africano sia stata stabilita sui tempi quello della lungissima durata noi dobbiamo tenere sempre presente sullo sfondo qual è la lunga durata dei comportamenti e anche qual è il contesto veramente ambientale dove una comunità umana è cresciuta perché questo influenzerà poi la crescita e lo sviluppo di questa comunità questa regione si chiama Gor ed è una sorta di un club nella parte principale della valla di Giordano molto verde sia perché Giordano è un fiume sinuoso quindi crea un'area coltivabile più ampia soprattutto però perché dai monti che sono ai lati da una parte piano Giordano dall'altra del monte del cosiddetto delle tentazioni del deserto di Giuda le api che vengono raccolte vanno prima in profondità e poi scociano tutte in questo caso come vedremo in una straordinaria sorgente è un oasi che potremmo dire senza mancarle di rispetto ridicola rispetto alle oasi che ci sono in Egitto dalle dimensioni che ha andiamo sui 10 km quindi non è una grandissima oasi però tutto va rapportato al contesto perché il contesto qui è tutto molto più ridotto e quindi appunto noi immaginiamo che un egiziano poi magari arrivando a Geico poteva ritrovare più o meno lo stesso messaggio dunque qui le cose che io vi mostrerò derivano da un'attività che ormai è ventennale anzi quasi più che ventennale e che risale al 1297 quando la sapienza ha iniziato a lavorare a Geico e all'epoca la missione era diretta da Niccolò Marchetti e nel frattempo sono successe tante cose però questa mappa serve diciamo a me è utile molto in ambiente a me stanno sassone dove gli inglesi che sono stati coloro che hanno scavato a Geico prima di noi con la famosissima Dave Kathleen Canyon non hanno ancora preso coscienza che dopo i sei anni della missione della Canyon ce ne sono stati identi della missione di Cano Palestines quindi senza volersi manco lontanamente paragonare però abbiamo dei dati diciamo abbiamo dei nuovi dati questi nuovi dati sono stati molto importanti in molti sensi per capire questo contesto allora al centro di questo insediamento c'è una sorgente questa sorgente è stata prima il nucleo dell'insediamento neolitico un insediamento che qui è rappresentato al cerchio arancione ma in realtà era molto grande probabilmente la città del bronzo antico era grande un po' meno del insediamento neolitico tant'è vero che questo insediamento neolitico la Canyon lo chiama town a un certo punto perché aveva anche un muro difensivo quindi l'archeologia di Genio è un'archeologia veramente multifase ha uno straordinario neolitico precerapico poi abbastanza importante neolitico ceramico poi c'è un gap durante il calcolitico nel quale la sorgente ha smesso di funzionare cioè una serie di eventi sismici hanno probabilmente ridotto molto addirittura interrotto il funzionamento di questa sorgente e quindi la popolazione che si è spostata sulle sponde di un fiume che si trova diciamo di un fiume di un piccolo torrente che si trova a un chilometro più a est che ha diventato un altro sorgente che invece aveva continuato a funzionare nell'età del bronzo sono tornati su questo sito e l'esperienza della nascita della città nell'età del bronzo è molto ben evidente da discarmi dall'altra parte ci sono state quattro missioni archeologiche e quello che vedete voi così in questa foto è più che un tel è una specie di groviera insomma dove all'inizio mi ricordo per districarsi da queste cose il primo problema che aveva l'archeologo era distruggere dallo scarico gli scarici precedenti e degli strati con una origine di cittura poi negli anni abbiamo pulito insomma con me e quindi si è potuto iniziare a capire quest'area nella sorgente è stata nella seconda metà degli anni 2000 cioè dal 2007 in avanti oggetto di un grande intervento di restauro abbastanza trasformatosi poi in una colata di cemento perché quest'area è sotto la giurisdizione del comune di genere con la municipalità mentre il tel è sotto la giurisdizione del ministero delle antichità quindi tutto il mondo è sempre uguale chiaramente questi due enti non possono in nessun modo andare d'accordo tra loro e io mi sono sempre trovato a cercare delle mediazioni e anche questo ha fatto sì che poi il comune abbia dato alla nostra necessità anche da fare diciamo un scavo di salvataggio della sorgente prima che fosse sommersa dal cemento però questo il dipartimento lo ha accettato un po' dopo c'è stato questo capolavoro europeo che è il tetto con le marsigliesi sulla grande vasca che costituiva la piscina dell'acqua di Gerico però l'importanza di questo di questo sorgente è questa sono 5.000 litri di acqua al minuto quindi si tratta di un fiume non so se è difficile da spiegare un meraviglioso fiume di acqua assolutamente cotabile che sgorga esattamente nel punto dove termina il plateau calcareo e inizia il piano aglubionare prodotto dal limo portato dal fiume giordano quindi è un punto straordinario perché quest'acqua non solo sgorga alla base di una montagna ma davanti a sé a un territorio limoso che è facilmente coltivabile non è quindi un caso che Gerico è da inserire tra i centri neolitici dove per la prima volta sono state domesticate le piante e ci sono i primi esempi di agricoltura o i primi esempi è stata inventata la ceramica e i primi di mattone quindi sono tutte cose che si possono fare solo se una grandissima disponibilità di acqua tra l'altro l'acqua pura cioè l'acqua che non si stabilizzerà mai come a casa in altri luoghi perché tuttora nonostante uno sfruttamento selvaggio insomma è una risorsa che è grande quando noi ci iniziamo a interessare il Gerico cioè nel brozzo antico diciamo anche come una logica un po' meno più alta quella che è scritta qui il rapporto con l'Egitto è subito un elemento distintivo perché? perché come scritto nel titolo noi avremo adesso a che fare diciamo uno degli obiettivi della nostra ricerca è stato studiare il fenomeno urbano ora questo fenomeno urbano è oggetto di grande riflessione e chiaramente assume delle forme diverse a seconda di dove ci troviamo fino ad arrivare a dire gli studiosi del Levante meridionale che è una legione particolare del Levante perché è una legione molto scavata per ragioni bibliche quindi ci sono legioni di archeologi che ci lavorano speciale nel mondo angloamericano i quali discutono molto su cosa si chiama una città e ora qui bisogna capire due cose che uno da un lato bisogna uscire da problemi in natura solo terminologica perché la questione non è terminologica nel senso che se uno la vuole chiamare in un altro modo non c'è problema ci sta una studiosa che richiama la civiltà degli insediamenti fortificati chiamiamola così l'importante è capire che cosa sono questi insediamenti e dove mettiamo il discrivine tra la città l'organizzazione che noi chiamiamo urbana e dove non la mettiamo allora questo è un caso di studio interessante chiaramente io siccome lo scavo ho sempre detto che questa è una città un po' dovevo andare male nel posto dove lavoravo però ho anche trovato dei criteri che hanno un senso al loro interno cioè la città come un livello di complessità superiore a un villaggio dove c'è un capo insomma e quello penso che ci sia e uno degli elementi fondamentali in questo fenomeno è proprio il rapporto che sale a livello internazionale quando ci sono delle prove dei rapporti con Egitto e nel periodo 17 abbiamo 20 anni scali noi abbiamo trovato una cosa che io mostrerò in questa breve presentazione che è una delle tante prove che è proprio il rapporto con Egitto che ha portato a questo tipo di modello cioè un modello un po' più complesso di organizzazione di questa comunità comunque all'inizio c'è una fase che giustamente capi in piedi aveva arrivato il periodo proturbano che noi abbiamo chiamiamo nella periodizzazione del Levante il bronzo antico primo e in questo bronzo antico primo ci sono alcuni elementi guida che sono costituiti dalle teste di marza che conosce del bene come simbolo così del potere e da questi cosiddetti logist flowers che ricorrono nei contesti palestinesi e tra l'altro non in tutti i contesti ma in contesti che di solito sono o luoghi contempli oppure ovviamente il contesto funerario qui vedete degli esempi trovati ne ha anche in altri siti palestinesi quindi non è un fenomeno riguardo al sologeneico ma riguarda i 4-5 non so di più centri di grandi dimensioni questo è uno di questi vasi a forma di loto che sono stati trovati che è stato trovato da noi in Giordania dopo qualche slide di Badragui la vedremo perché serve a capire un po' il contesto in cui ci troviamo il primo passaggio fondamentale che è testimoniato nel nostro sito è quello veramente come una comunità di agricoltori si trasforma in qualcosa di più e c'è stato un elemento molto importante le tombe del mondo antico di Geico sono molto interessanti sono state molto studiate alcune sono state scavate da Guardian Canyon e altre da Gars anche la prima missione britannica degli anni 30 di 1900 allora praticamente in queste la prima tombe delle tombe più antiche si chiama la tomba al 94 scavata dalla Canyon ha restituito delle straordinarie resti cioè si tratta di camere delle grotte ugogenee della platon calcare o del calzio queste camere dentro hanno moltissimi inumati e la più antica tomba che è quella che è andata in esatazione per le condombe antiche questa tomba al 94 ha tutte le ossa lunghe ammocchiate al centro e i teschi i crani di 113 persone disposte lungo il perimetro diciamo della cosiddetta fila crematoria dentro dalla Canyon oppure della fila delle ossa al centro allora questa sepoltura disarticolata di almeno 113 persone è avvenuta tutta insieme perché sopra a questi resti umani è stato disposto un corredo che è stato trovato depositato appunto contestualmente quindi l'ipotesi della Canyon è stata e secondo me era giusta sono arrivati quindi è arrivato diciamo un gruppo una comunità si è insediato nel sito e si è portato dietro quando è arrivato si è portato dietro i loro nonni antenati zii che comunque arrivano e l'hanno messi tutti lì i primi e questo è un modello molto interessante è interessante perché è uno dei pochi casi in un vicino rientro come avrete sentito parlare di sedentarizzazione passaggio di una comunità andomatica alla vita rurale e a questo fatto la chirurgia diciamo lo ha in questo caso abbastanza trovato perché contemporaneamente nell'insediamento si vedono delle belle capanne e inizia un'agricoltura che è testimoniata rinizia perché il gerico è un luogo di continue riprese perché siamo partiti già da l'oridico nel 10.000 avanti Cristo che qui siamo a 3.300 è almeno la terza volta che l'insediamento ricomincia a fare l'agricoltura e l'allevamento un'altra tomba che è questa tomba di casa che invece è andata una testione alzata un colpo interessante ossia un individuo che è stato sepolto come vedete innumato 24 è diventato quando non sono un mio allievo un paio di articoli perché effettivamente questo è umano che sta così è di un interesse notevole sembra un capo indiano dell'America e vedete che aveva tra le armi un oggetto perché la testa di Nazio è stata trovata qui e probabilmente non ce l'aveva in greco diciamo su questa sorta di posizione seduta e l'unica opera di arte figurativa del mondo antico primo e secondo palestinese è questa cosiddetta stella di Aramme che vedete qui nella quale c'è una raffigurazione in effetti non molto diciamo direi che per l'ottica dell'Egitto insomma coero non è esattamente un po' di qualità però dove si vede un personaggio con delle mani enfatizzate che sta nella stessa posizione e anche nella grittica di quest'epoca della Palestina si vede ricorrere sempre questa figura con le mani elevate che poi sarà una iconografia collegata ovviamente al gesto della prigiera e del rapporto con il divino quindi noi facciamo gli archeologi in questo caso è una cultura illetterata quindi non ci possiamo spingere oltre di questo certo sarebbe bello se avessimo lasciato qualche altra cosa per capire se veramente questo personaggio dovesse un ruolo però chiaramente è uno dei primi che sono inumati e che non hanno questa secoltura disarticolata che è secondaria dell'esposizione su dei catafalti e poi dobbiamo mettere solo le ossa sotto terra è uno dei primi che ha un corredo ceramico un po' considerevole di basi che sono collegati all'attività agricola che era ripartita e poi ha questa testa di mazza tra le gambe quindi è stato considerato un leader cioè si perdone il paracomore insomma con la paletta di Turner però per far capire che evidentemente questi simboli dell'Egitto faraolico nascente venivano percepiti dalle culture vicine proprio per il loro valore simbolico e quindi incominciavano a usarle anche loro per come potevano un altro elemento che si diffone in quest'epoca sono le palette iniziano ad esserci le palette non solo tutte della qualità come siete abituati ad averle in Egitto queste palette servivano ovviamente per il list o per il trucco e la loro presenza è nuovamente uno stato simbolo nel senso che si truccava solo un'elite e questo è un punto molto importante come vedremo della formazione della società più gerarchica più complessa perché non credo che tutti i contadini dell'Ose Ligerico si vedessero il tempo e i mezzi per poi dedicarsi al trucco e proprio il fatto di truccarsi era un elemento fondamentale a questo punto ho tirato fuori questa opera che spero tutti li conosciate e abbiate visto perché io lavoro anche in Sicilia e ho condotto un peragno a battaglio perché non mi sento magari come questo regno fosse valorizzato come merita perché se no era messo attaccato a duro con un stock e un altro si era di cadere adesso per fortuna che la direttiva era attaccato a questa spadapola che invece gli ha dato una grande importanza penso che vogliono di andare un po' meglio però perché ci importa questo ci importa perché Genico ha anche un altro interesse non solo quello che è lo studio della cultura più grande ma è anche uno dei pochi siti che ha delle straordinarie sequenze stratigrafiche queste sequenze stratigrafiche sono ricche di campioni cioè databili noi abbiamo per tutto il bronzo antico adesso io purtroppo penso in pari mesi a rifare un articolo che stiamo assolutamente nella rivista Radio Carbon e sapere che Vicino Oriente è stato oggetto di una grande riforma oggetto al cane hanno cambiato la cronologia vabbè io diciamo che io dico la mia opinione ragazzi diciamo questo non conta molto nel senso che se uno avrete il sito quello che conta è la sequenza relativa di quel sito e di aver capito in che contesto si trovi quando hanno lavoro detto questo è chiaro che poi da arrivare a un'interpreazione storica un po' più approfondita è obbligatorio accedere a un modo di riferimento che ti consente di collegati agli altri e l'unica strada era la cronologia assoluta questo era già stato capito da un certo Pitri che avrete sentito nominare e l'unica via quando si sta nel Levante per fare questo è l'Egitto quindi non è che noi amiamo l'Egitto che ci piace però non è che lo amiamo solo per quello nel senso che è un riferimento oltre che culturale anche proprio veramente come un mezzo con cui l'archeologo del Levante devono arrivare a capire qualcosa di più allora questi sono quello che finora si era capito questo è stato adesso messo in discussione perché il Levante è stato alzato di un'unica per quanto riguarda Gerico Gerico ha dato 50 date al radiocarbonio non è così ma disposte dentro la stessa sequenza cioè io sono sei mesi che combatto questa cosa perché chiaramente la data al radiocarbonio è un isotopo non so se sapete cos'è un isotopo cioè l'isotopo non deve essere l'atomo quanti atomi ci stanno in questa stanza moltiplicate ecco l'isotopo è ancora meno quanti ce ne stanno in questa allora noi prendiamo un isotopo uno eh lo datiamo con una precisione assoluta e dopo però noi dobbiamo capire questo qui dove stava sia da cosa è stato preso perché come voi ben sapete solo un seme carbonizzato c'è una data relativa a quando è stata mettuta la pianta dove stava questo seme quindi neanche relativa al vicendio ma già quando noi arriviamo a prendere i carboni che sono il nostro ritornamento tipico perché noi siamo degli abortori del passato ci nutriamo le disgrazie di quelli che vivevano dove scaviamo e questo carbone dipende se è il carbone con cui hanno cucinato le salsicce magari è una pianta che ha vissuto tre anni mentre se è il carbone di un trale di una quercia che è stata tagliata 500 anni prima quando è stato fatto il palazzo del re la data radiocarbonio che noi avremo sarà quella e a volte la gente ha anche cucinato le salsicce con il recinto del nonno che ha smontato che stava lì da due secoli quindi è molto difficile l'uso di questi è meglio escludere un campione se non ha dei dubbi perché sennò si fa molto bene ma soprattutto quello che ho cercato di fare è creare una sequenza cambia un senso cioè se io partendo e questo è molto difficile ma lo capire i fisici e loro credono se non è giustamente la dotazione di un migliorare per certo però il problema è che la sequenza statigrafica è fondamentale perché tu non puoi avere un campione sotto che è sicuramente sotto nella tua statigrafica e poi c'è una dotazione più recente di uno che gli sta sopra è tutto lì però una volta che abbiamo fatto questo abbiamo visto che il gelico è coerente cioè la sequenza che hanno fatto la Cambridge che noi abbiamo verificato di eco che si chiamano steggi che sono stati che è molto complicati non è tanto diversa dal suo inquadramento delle date radiocarboniche che abbiamo dallo schema che noi abbiamo sempre seguito che è quello che vedete qui quindi invece di rialzare farmi prendere da varie patute io considero valido questo schema non è una sciocchezza perché noi qui abbiamo messo in parallelo dei fenomeni storici che avvengono in particolare in Egitto e che di conseguenza influenzano il Levante che se noi li facciamo sfasare allora dopo noi non possiamo più dire che nel bronzo antico terzo c'è un cambiamento si rivolge il Levante verso il nord perché l'Egitto ha deciso di non andare più nel sud del Levante ma va direttamente a Biblo e nel nord e quindi tutti si orientano verso il nord se noi spostiamo il Levante più in su tutte queste interpretazioni dove siano stati formati hanno più senso allora io ancora devo considerare però nel basso non si trova nel scavo e quindi ho messo questa carrellata di corrispondenza per spiegare che non sembrano sciocchezze ma invece sono molto importanti ho anche messo qualche personaggio anche l'Egittologia che sembra adesso non voglio dire che si sembra è una scienza avanzatissima perché è una quantità di dati però io continuo a sperare che se ne abbiano altri perché la ricostruzione della storia per esempio la dodicesima dinastia non è finita cioè ci potrebbero essere altri funzionari militari che sono stati speriti poveri loro a fare una guerra o a conquistare le volte che hanno scritto le loro imprese e che solo dopo studiandole noi capiremo meglio cosa è successo perché chiaramente diciamo la possibilità che alcuni eventi che noi abbiamo registrati dall'archeologia soprattutto all'inizio del secondo millennio rilevanti siano dovute a selezioni che noi ancora non conosciamo bene che ancora è esistente quindi c'è tutto un lavoro ancora da fare che poi vedremo in cui Gerico ha avuto un suo ruolo la prima città nasce così l'evento fondamentale è la costruzione delle mura e un'altra cosa che accomuna molto Gerico all'Egitto è che è una città principalmente fatta di mattoni crudi cioè non è una città fatta tutta di pietra come alcune come vediamo parlavo quindi il materiale di costruzione è molto simile all'inizio dell'urbanizzazione l'evento fondamentale rappresentato in questo vasetto c'è un surplus agricolo e la presenza considerevole dei bovini cioè i bovini entrano prepotentemente nella pietra della comunità questo ci riporta anche all'azionamento cioè il boom della comunità demografico che economico è dato dall'avere la possibilità di allungamento della vita sopravvivenza dei bambini è una cosa fondamentale data dal latte vaccino se voi date ovviamente quello che fa crescere un vitello ma un homo sapiens che fa crescere dicendo subito grosso e questo fatto aveva una frequenza addirittura proprio nell'osi c'erano queste maldi e ci sono state davanti meno a pochissime in Italia che sono ancora e in questo periodo del produttivo secondo che è l'inizio del terzo milano è proprio il periodo in cui ancora continua la relazione con l'Egitto addirittura a livello ceramico ci sono tutta una serie di importazioni dell'Egitto rispetto all'evoluzione per cui viene arrivata a Bidosware ma in realtà il ceramico è stata fatta in Palestina che contiene olio principalmente e viene inviata in Egitto per essere lì utilizzata anche in Egitto era un centro di produzione di questi vasi che venivano inviati in Egitto le case qui vedete noi abbiamo stato un quartiere di abitazione con una sola posizione veramente millenaria quindi è sempre stato lo stesso la via principale la vedete è questa via e vedete ci sono due metri di stratificazioni di anni stradali dalla prima fino a quelle più recenti e le case al giorno sono cresciute chiaramente sono cresciute in base alla disponibilità e alla storia dei proprietari quindi non è che tutte le case come parebbe diceva l'archeologo sono cresciute insieme in base alle sue fasi praticatiche ahimè ogni casa c'è una sua stratigrafia che è una storia complicata anche perché il modo di costruire dei gelichioti era buttavano giù un muro e ci mettevano un po' di cenere sopra per fare il pavimento nuovo e continuavano quindi anche lì è molto complicato i ritrovamenti dalle case sono stati importanti interessanti e ovviamente tra i loetti principali che si devono proprio a quest'anno c'è stato questo lotto di conchiglie questi sono stati veramente incredibili perché questo è stato ritrovato quest'anno a marzo nell'angolo di un retro bottino diciamo di quella che io pensavo che vedete presso l'angolo della strada c'era una sorta di edificio che sembra quasi una bottega e queste conchiglie erano impilate una sopra un'altra e un'altra sono di dimensioni digradanti e in realtà noi ci siamo molto emozionali abbiamo visto una cosa che è bella che è bello poi io l'ho portata a Roma sono riuscito a portarle che non è semplicissimo perché c'è un contesto un po' complicato però quando l'ho portata vi sono tutte un po' rotte confesso perché vabbè non avevo riflessuto che negli aeroplani di scatole si cresciano comunque poi abbiamo una visione che stavano che stavano a prendere e stavano si è accorto di queste macchie nere che vedete allora andiamo a portare subito al laboratorio che abbiamo con l'università abbiamo fatto il prelievo e è uscito fuori che si trattava di biossido di manganese cioè soprattutto la sostanza base comunque viene fatto il coro con cui viene fatto il visto per truccare gli occhi in tutto l'Egitto tra l'altro gli egiziani ci piacevano anche l'inchiostro quindi questi oggetti sono noti qui vedete degli esemplari del museo di Torino sia come porta cosmetici in queste conchiglie che come dei calamari diciamo però io non mi sono spinto a dire che i palestinesi si mettevano a scrivere nell'antico regno perché non ho trovato un altro strumento che avete dovuto trovare insieme però invece che si stavano traccati probabilmente sì perché non è che questa animale in natura c'era dentro il manganese ci poteva avere questo qualcuno la notizia non è tale che non ve l'ho ancora dov'è è questa che mi ha veramente scioccato cioè che questa specie questa conchiglie che si chiama Campania Rubens è solo esclusivamente Milotica esce solo nel fiume di Milano non ci sta nel suo altro fiume del mondo quindi più di così non si poteva volere per sapere che questa viene dall'Egitto poi come quando adesso è stata anche data da radiocarbonio a pochi giorni la radiocarbonio e lì ho scoperto l'ennesima legatura di radiocarbonio cioè le conchiglie di acqua dolce hanno un sistema di accumulo del carbonio diverso e si crea una certa riserva per cui la datazione una volta che è stata calibrata non va bene perché bisogna passare di tanti secoli bisogna avere i termini di confronto e quindi adesso una povera mia collaboratrice sta cercando tutta l'elettorato scientifica se qualche un'altra datata l'odio carbonio delle conchiglie del Milo prese e scape sull'acqua per avere la possibilità di fare meglio la calibrazione comunque in un caso senza calibrazione la datazione è sempre attorno a 3.000 che è l'epoca del produttivo secondo cioè di quando si forma questa elite e di quando nasce la città fanno le mura che è una cosa fondamentale si danno una forma urbana come vedete con le strade e soprattutto poi sulla Spring Hill cioè sulla collina che controlla la sorgente nasce un palazzo e questo è forse il risultato principale del nostro lago cioè mettere insieme lo scavo fatto da noi che è quello vero con lo scavo fatto dalle missioni precedenti che sono marrone rosso e celeste viene finalmente fuori che c'è un palazzo costruito su tutte le terrazze questo palazzo lo vedete dove è posizionato nel sito sta proprio sopra la sorgente cioè guarda il re di Gerico si affacciava dal balcone e vedeva sotto cosa succedeva una sorgente e ovviamente da questo palazzo provengono alcuni reperti fondamentali e di nuovo siamo con la testa di massa una palazzo escisto che purtroppo è distrutta però il materiale è agenziale una forma di questa specie di scuola non abbiamo capito ci avevano trovato confronti poi nel palazzo c'era la tournet cioè questi dischi di palazzo dei toni da vasali che sono molto importanti che sono iniziati nei pazzi perché rappresentavano l'innovazione tecnologica e poi è l'unico contesto del sito a parte le tombe in cui sono state trovate armi di rame quindi diciamo i ritrovamenti più che oltre all'architettura ci spiegano la funzione di questo tipo gli edifici sono degli edifici che hanno questo poi inizio a parlare di una città che hanno una funzione complessa addirittura c'è stato la testa di avorio che è un elemento di un po' bello di un trono una sedia un elemento decorativo che assolutamente sono cose del tutto straordinarie rispetto ai ritrovamenti che avete visto prima nelle case nelle case ci sono semplici strumenti al massimo che puoi trovare di complessità di pesi che servivano anche adesso la conferenza la batteria vabbè questo sappiamo che la batteria è un altro copo e non abbiamo un altro compito queste armi hanno portato a studiare il rapporto con l'Egitto attraverso quella che io chiamando la via del rame perché chiaramente il rame rappresentava tutto quello che si poteva vedere più tecnologico in quel contesto culturale il rame si poteva andare a prendere volendo a cifra alcuni hanno dimostrato però un altro copo che veniva il rame era la valle dell'Arabà cioè proprio al sud del Mar Morto in due location in particolare quella di Wadi Feynand ha trovato i lingotti del terzo millennio e questi lingotti sono molto simili come vedete e anche gli stampi e questo è un regolamento sempre palestinese ma la cosa più importante sono questi stampi che vedete gli stampi in cui veniva già colato e quindi prelavorato in forma di queste asce il rame nel Wadi Feynand quando nel sito della Giordania che tra poco vediamo noi abbiamo trovato queste cinque asce che sono insieme a che è importante il regolamento di un tesoretto di metalli del terzo millennio in Palestina io ho chiamato Tom Lenni scusate poi ho trovato gli stampi poi ho trovato quelle che ci stavano dentro che sono come vedete appartengono proprio alla stessa tipologia di trementi quindi siamo una riempimento a Timma abbiamo fatto tutti i premieri dei metalli e tutte le analisi possibili inclusi gli isotopi allora la soluzione è sempre la stessa cioè gli antichi rifondevano in metallo molto spesso quindi è molto difficile avere la prova cioè è molto probabile che venga la Timma questo rame ma non è non è certissimo nel senso che se a parte che ci sono filoni diversi all'interno delle stesse viniere che cambiano la loro composizione chimica quindi tu non puoi essere mai sicuro dell'impronta digitale diciamo di una fonte ma soprattutto il fatto che poi il metallo venisse rifuso diciamo uno può addirittura commerciare gli oggetti prelavorati che vengono dall'anatoria come infatti è stato dimostrato in alcuni casi per ritrovarseli in in Palestina quindi cosa deduciamo da tutto ciò beh deduciamo che la via del rame è una via esistente all'inizio della prima organizzazione perché la possibilità di avere questo metallo era fondamentale tra l'altro le asce queste che vedete provate a Badrawi tranne una non erano state usate cioè erano delle delle asce che erano simboliche simboli del potere qui vedete il sito di Badrawi che lo cito come paragone questa prima organizzazione perché anche questo ecco è oggi è il sito di un palazzo ma soprattutto anche questo collega vedete era il sito dominante oggi dove si trova qui la valle è un altro fiume che è una situazione completamente diversa siamo in un alto piano giordano a est del giordano e il sito controllava il guado su questo fiume però dicevo eccolo qui il guado che poi consiglio di insonare in questa altra valle ci interessa perché anche Badrawi ha l'Egyptian Connection e anche Badrawi è un po' giudicere con quasi un centro che si basa sul controllo delle vie carovanie quindi è quasi incredibile lo era per me che un sito sperduto della giornata abbia dei reperti egiziani qui vedete Lemura io non voglio dilungarmi su questo sito oggi però vi faccio vedere il Lemura il palazzo la porta i carovani che arrivavano con gli asinelli questa è la situazione di questo che abbiamo il palazzo c'è un edificio pubblico più grande con una quantità di reperti che non si può neanche immaginare e adesso sono veloci perché questo è un'immagine che è vedete che anche l'architettura è interessante i reperti di dire sono tanti si chiedevo che non si spegne in questo momento ci sono festeggiare sul festeggiare ci sono dei segni e bisogna stare qui un po' a tempo perché alcuni di questi segni somigliano alcuni sono noti come questo dove hanno la testa da liete ma anche somigliano a dei geruitici quindi uno dice ma questo può essere un carano a cosa si sono ispirati questi abitanti di palazzo perché hanno visto questi segni questi che sono i piccoli del palazzo c'è solo il palazzo e questi non ce l'ha nessun altro e sono gli unici faci di tutto l'emperatore per amico che hanno il collo fatto attorno tutto il resto è fatto tutto a mano oppure quando troviamo dei vasi invece hanno delle regolazioni applicate questi hanno solo serpenti scolpioni non so se quello che scolpione non c'è ma insomma che sono due animali tipici del sito però anche due animali tipici della rappresentazione qui ci sono i correnti ceramici dell'economatrice che sono rilevanti quello che stiamo dicendo un vaso che era un vaso particolare perché era un simbolo probabilmente del re invece mi ha interessato molto perché è una cosa unica cioè in questo palazzo di Padra che è stata trovata la ceramica miniaturistica ora questa ceramica miniaturistica non esiste in Palestina in quella epoca non c'è non sapeva dove esisteva e quindi noi ci siamo subito detti ma guarda un po' che invece in Egitto proprio qui ci troviamo nella vita di Tastia così questi tra la quarta e la secola invece la ceramica miniaturistica c'è allora questo potrebbe essere indirettamente un altro segno di un'influenza della cultura materiale che c'è stata vedete sono proprio imitazioni dei vasi più grandi fatte in miniatura la loro funzione all'interno di un edificio così è un po' non si riesce ancora insomma a capire nel senso che in un momento mi sono venuti a vedere questi vasi in contesti religiosi sono delle reti fatte per offrire simbolicamente la cosa che rappresentano per esempio con la stile votiva invece qui stanno dentro al palazzo quindi magari non c'è tanto l'influenza comunque altri reperti ceramici di cui non vi ricordo male oggi però che sono sono stati segnati come i rumori del prima e della seconda qui ci vedete di nuovo anche il palazzo di Padragui e hanno desaurizzati i torni quindi veramente per il Levante l'avvento del torno è stata un'innovazione del terzo millennio pensate una cosa che magari tante culture si conosceranno da molto tempo ed è stata mediata dal ruolo del palazzo quindi noi vediamo che c'è un'elite che si occupa anche di innovazione ecologica infine nuovamente i reperti questa volta di Padragui egiziani e anche qui abbiamo una paletta tra l'altro disgraziatamente frammentaria con un'incisione che io mi chiedo che cosa sia il pesce che ha non sono riuscito a capire ho cercato tutti i confronti possibili immaginabili e ho messo taglie sui pezzi mancanti chiedendo agli operai di setacciare un intero poll di una montagna perché queste sono quelle cose che ti fanno impazzire dell'archeologia che tu in un contesto chiuso incendi altro con un oggetto spezzale non riesci a trovare i pezzi però non è escluso siccome abbiamo finito di scavare questi libri poi si trovi il pezzo mancante con la firma del faraone mancante insomma quello che io spero che un po' riuscire a trovare e questo è un articolo di una sala proprio su questa egizia che una volta trovata un faraone andando a studiare si è scoperto che anche in Giordania c'erano tanti inerti egiziani oggettizzati del prozo antico che alcuni anche oggi non avevano fatto tanto caso perché non erano loro privati interessi poi abbiamo trovato la pelle dell'orso le asce in un nuovo contesto questa è la pelle dell'orso che è importante perché probabilmente secondo me è una cosa che era collegata invece di essere messa sul pavimento come abbiamo rappresentato questa ricostruzione la pelle dell'orso poi si è capito era una cosa che avvolgeva le asce e quindi probabilmente era qualcosa di pertinenza di questo leader nella mia interpretazione che era proprietario dei simboli del potere diciamo che la pelle dell'orso insieme alle asce e al vaso che era vicino erano i tre simboli del potere che sono stati messi al centro del pilastro centrale di questa sala prima che tutto il palazzo fosse dato dalle fiamme e quindi la pelle dell'orso si sa che è un simbolo di potere tra l'altro di un di un leader che ha il carattere dell'orso cioè è diciamo tendenzialmente buonarico se vuole raffiare e quindi che è usato è un simbolo del potere militare sia della tipografia che ancora oggi degli eserciti ci stanno per sempre le luca che hanno il cappello a livello di corso e ancora siamo che si ricollegava tutta questa direzione era semplicemente nana dalla via del rame su cui entrambi i siti gravitavano poi questi sono solo per far vedere alcune di un momento che hanno visto l'articione però ora andiamo ecco tutto ciò per mostrare la via del rame e soprattutto le scomerte che riguardi il Jaffa che voi sicuramente conoscerete cioè di questi bordi che servivano ad attraversare il canale di Suez e il ritrovamento di questi importanti siti costruiti dai paraoni diciamo nella penizia del Sinai per lo sfruttamento minerario del Sinai tra cui Rasbudran che a me è interessato molto sia perché tutto lo che tondo mi piace ma soprattutto perché se vuoi confrontare l'architettura di questo sito con le mura di Batravi vi rendete conto che c'è una fortissima somiglianza addirittura nella letteratura si dice di Batravi anche di Archi che come gli egiziani usavano la pietra come se fossero dei mattoni e questa è un'innovazione che facciamo risalire alla terza dinastia cioè al fatto di tagliare il calcare in una forma come se fossero dei mattoni e quindi poterle mettere in opera un po' come se fosse ecco la somiglianza architettonica è un altro elemento veramente notevole e diciamo non possiamo non finire con questo camoloro che un ignora cioè la statua di rame di Pere Primo perché a parte che questa penso sia la più antica statua di un personaggio fatta così ma soprattutto nuovamente vediamo che sia gli egiziani che i nostri poveri sfortunati amminanti dell'arte meridionale che si chiamano volendo cananei del terzo millennio si recavano le miniere di rame per realizzare gli uni questi piccoli strumenti che utilizzavano anche come simboli del potere gli altri ricavano lavori d'arte però in quel luogo secondo me le miniere erano sicuramente il luogo dove si potevano incontrare e quindi dove avveniva questo scambio dal quale il levante uscirà fecondato praticamente quindi qui il palazzo visto com'è non com'è la ricostruzione con alcune statistiche dei dati di materiali egittizzanti egiziani trovati a generico quindi vedete sono dei numeri abbastanza significativi per essere un sito palestinese e quindi il terzo millennio diciamo che il ruolo dell'Egitto è abbastanza fondamentale per alcune cose come il tono non sappiamo se questo sia stato cioè l'Egitto esisteva non sappiamo se lo abbiano preso i palestinesi dal contatto con l'Egitto o viceversa magari gli egiziani che avevano loro volta preso la esumen lo so però questo lo vedremo alla fine di questo grande e lunghissimo escursus e questa formazione urbana che nel caso del gelico significa la costruzione di mura che vengono fatte più o più volte il palazzo che viene costruito più volte tutto termina ci sono vari eventi distruttivi nella storia però c'è una distruzione finale molto grande in particolare la distruzione più che pone fine proprio alla vita di questo insediamento è stata volta la mano umana e questo è stato provato addirittura da parte di tutto l'anno ogni allievo perché le ha confrontate tutte quelle che sono per termine in modo hanno certe caratteristiche quelle portate a Roma e altre una di queste è che l'incepio è stato appiccato in modo sistematico abbiamo anche fatto un progetto insieme a Rigide e Fuoco per studiare come hanno dato fuoco a questo palazzo partendo dal basso dei muri che contenevano delle stesse incannonciate che si mettevano un po' in mesopotamia per regolarizzare queste grandi masse di battoni unghie e fargli prendere aria e da lì hanno dato fuoco alle strutture e dopo chiaramente la componente linea di ogni edificio che è diventato famoso nel mondo per quante mura sono state distrutte attraverso il racconto tramandato come si è venuta e così fu che la prima città di Gerico è finita c'è stato un momento dove tutto è diventato fumante e rovina e secondo me un po' in analogia anche a quello che sappiamo non lo so per esempio della fine della terza finanzia di Urra in Mesopotamia cioè questo fine è stato un po' drammatica si deve essere stampato nella mente della popolazione che ci viveva e è diventato un racconto di corrente che dopo sarebbe stato utilizzato dall'autore B dopo si parla di millenni dopo dall'autore B per andare avanti adesso poco offrito il tempo molto più un altro confinità un altro del prossimo apprendere veramente